No alla privatizzazione e alla formazione di scuole di serie A e scuole di serie B. Per questo gli istituti scolastici di Fiumefreddo di Sicilia si sono uniti in corteo e hanno aderito oggi allo sciopero generale contro la riforma della scuola. È una cosa che è anticostituzionale, anziché andare avanti stiamo andando indietro. Quindi diciamo no alla politica del regresso, accettando solo delle riforme che possono metterci in possibilità di andare avanti. Sì, dobbiamo diventare come l'Europa, però dobbiamo essere capaci di farlo. In Italia non ci sono state delle riforme tali da potercelo permettere. Che tipo di scuola vorreste? Vorremmo una scuola pubblica, vorremmo una scuola dove è lo Stato che si occupa della scuola e deve essere lo Stato ad uscuparsi dei progetti e della risanazione della scuola. Perché comunque sono istituti fatiscenti, chi più chi meno abbiamo tutte delle problematiche nella scuola. Quindi è inutile privatizzarla, perché in questo caso avremo delle scuole d'elite ben sistemate, con ottimi progetti e degli insegnanti di qualità. E delle scuole dove magari ci sarà quello che rimane. Stiamo togliendo quella che è la meritocrazia. Questo è quello che i genitori si dicono contrari e protestano a squarciagola. Grazie. Grazie. Grazie.